Lunedì 19 settembre, quattro giorni dopo la bomba d'acqua che ha devastato Cantiano, il borgo alle pendici del Catria si presenta così, ancora sommerso di fango, con un fermento lavorativo di tantissime persone, dai Vigili del Fuoco alla Protezione Civile, agli operatori di Marche Multiservizi, agli operatori della provincia, tutti intenti al lavoro a supporto della cittadinanza, a supporto dei residenti armati di vanga, di pale, di scopettoni, di tutto quello che serve per liberare ancora le case dall'acqua e dal fango, case che sono state preventivamente anche liberate di tutti gli oggetti che si è riusciti a salvare dalla furia dell'intemperia idrica. Il lavoro è tanto da fare, però purtroppo le mani non bastano perché servirebbero mezzi che portano via il fango, perché se no non riusciamo a levarci il fango dalle case, dalle strade, da tutto. Non sai quello che devi fare, se è solo che scappi alla mattina di casa con i stivali e dove trovi da fare incominci a levare quello, i mobili, purtroppo è così. Qui è un bel macello, un bel disastro, poi soprattutto da noi ha sfondato l'usolaio buttando sui cisterni del gasolio, quindi con le esalazioni ci hanno detto i vigili che bisogna evacuare, andare da qualche altra parte, per fortuna abbiamo una cara amica di mia mamma che ci può ospitare, perché abbiamo anche un bambino piccolo, e quindi è bella, bella tragica, sì. Ci sono due rumori che dominano l'effetto sonoro delle borgo di Cantiano in queste ore, uno è quello del fermento lavorativo di operatori, vigili del fuoco, ruspe e scavatori, l'altro rumore dell'acqua, il rumore dell'acqua persistente, anche dove non dovrebbe esserci, come qui dove ci troviamo, dove si è aperta una voragine in pieno centro storico, e di fatto scorre un fiume sotterraneo in pieno centro. Io sono di un paese vicino, sono di Pianello, e chiaramente visto quello che è successo qui, siamo venuti tutti ad aiutarli via. Speriamo di risolverla, vedo che la gente si sta dando molto da fare, ieri c'erano, oltre alla protezione civile, i vigili del fuoco, c'erano anche molti volontari, e rispetto a due giorni fa, quando è successo tutto questo casino, già la situazione è un po' migliore, comunque ancora c'è molto da fare. Questa è Piazza Luceoli, la piazza centrale di Cantiano, uno dei primi luoghi in cui si ricominciano a vedere le piastrelle, oltre la coltre di fango, uno dei primi ad essere ripuliti, ma proprio questo luogo è il famoso luogo del video diventato virale, della piazza sommersa dall'acqua e dal fango, con le macchine che galleggiavano. Piazza che si sta ripulendo, tutto intorno invece è un fermento lavorativo continuo, con attività veramente in ginocchio, off-limits per quello che è l'attività lavorativa, ma anche il patrimonio artistico-culturale delle chiese è stato gravemente danneggiato. Questa è la chiesa e parrocchia di San Nicolò che si è un po' salvata, ma la chiesa collegiata è stata praticamente rovinata in maniera grave, l'acqua ha sfondato tutti i portoni ed è entrato dentro tutto il fango, tutti i detriti, rovinando anche delle opere che erano lì fino a un metro e mezzo di altezza. Ovunque danni incalcolabili, che siano abitazioni, che sia patrimonio storico, culturale delle borgo, ma soprattutto attività lavorative, vi mostriamo ad esempio come è ridotto il ristorante, la cantina sociale, la pizzeria della Rocca, il caffè centrale, la banca, tutto davvero devastato, completamente sgomberato il mobilio interno, danni ingentissimi, attività che fanno davvero molta fatica a pensare di ripartire. Questo sì, forse è il punto più colpito, l'acqua è arrivata fino all'altezza del soffitto, come potete vedere, fortunatamente noi eravamo appena usciti, perché già stava diventando la pioggia insistente, quindi eravamo usciti fuori per decidere sul da farsi, se andare via. A quel punto abbiamo visto l'acqua sporca di fango che iniziava ad arrivare, e da lì in pochi minuti è salita a livello di un metro, sopra il metro. Siamo al quarto giorno e c'è ancora tantissimo da fare. Sì, perché all'inizio hanno pulito dal fango che c'era per strada, e quando siamo riusciti ad accedere all'interno, abbiamo tirato fuori il fango dall'interno, che anche lì era tanto, ancora ce n'è tanto, e quindi continuiamo a buttarlo fuori, però in questo modo è un cane che si morde la coda. Più puliscono fuori, più noi ne ributtiamo. Questa è l'entrata del palazzo comunale di Cantiano, nel cuore della piazza del Borgo. Vedete all'interno dove il livello dell'acqua dopo l'alluvione di giovedì sera si è fermato, oltre due metri di zone sommerse, tanto per capire la portata dell'evento atmosferico in sé. Siamo stati di fronte purtroppo a un evento catastrofico, imprevedibile. In poco più di due ore è cascato a terra l'equivalente di sei mesi di precipitazioni normali, ordinarie. Quindi come vedete non c'è più il paese, abbiamo un centro storico completamente distrutto, non c'è più un'attività commerciale attiva, abbiamo una zona residenziale completamente distrutta. Oggi in questa fase siamo in una fase emergenziale, stiamo pensando alla salute dei cittadini, abbiamo liberato le frazioni, ridato viabilità, servizi pubblici. Da oggi c'è corrente, c'è acqua, entro la giornata sarà ripristinata la rete del gas metano. Però è chiaro che ci aspettano mesi e direi anche anni drammatici. L'appello è che le istituzioni, in questo momento, stamattina c'è stata la visita del capo di Dipartimento della Protezione Civile Curcio, è che non ci si abbandoni, ci si dia una mano e chiediamo una boccata d'ossigeno immediata, un ristoro immediato nelle nostre attività, perché il fare attività, il fare impresa nelle aree interne è già condizione difficile e ordinaria. Dopo una casastrofe del genere il rischio è che non ci sia la voglia di ripartire, che il paese muoia, che non rimanga più niente nel paese e quindi cali anche la popolazione. Questo è quello che dobbiamo evitare. Io ringrazio comunque tutti, tutta la rete del volontariato, tutte le strutture di supporto, le istituzioni, tutti quanti in questo momento ci stanno dando una mano per cercare di gestire l'emergenza e guardare con un po' di fiducia al futuro.